hi friends welcome and welcome back to my channel oggi abbiamo un appuntamento veramente impegnativo perché ho deciso di fare un workout total body per non lo so mezz'ora 40 minuti anche di più niente allora ti spiego come funziona come funzionerà ci saranno tre parte ogni parte ci saranno tre esercizi e ogni esercizio lo faremo in tre serie mi sono spiegata bene spero ok allora non ci serve granché ci servono soltanto due manubri se ce l'hai se non ce l'hai per usare anche devo chiedere qua non lo so a due litri un litro come vuoi te poi ci serve un elastico o così o come se ce l'hai già a casa come vuoi o se no senza non è un problema poi ci farò un esercizio anche con i fitball se non ce l'hai fitball puoi usare un cucino o una cosa o se no anche senza ok più avanti e niente ragazzi iniziamo perché come dico sempre prima e dopo ogni workout ci vuole lo stretching perciò prima anche di fare questi esercizi faremo una parte una piccola parte per riscaldarsi un po' ok iniziamo perché c'è da sudare let's go allora ragazzi adesso iniziamo con il riscaldamento metto il timer ok poco iniziamo con il job in jack 4 3 2 iniziamo gambe braccio si aprono contemporaneamente respiri ancora poco a poco 5 3 3 stop squat and tris apriamo chiudiamo apriamo chiudiamo 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 5 4 6 5 5 5 6 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 9 10 10 11 10 11 12 11 11 12 12 Fianco, dietro. Cambiamo gamba. Davanti, fianco, dietro. Ancora. Davanti, a fianco, dietro. Manca poco. Davanti, fianco, dietro. Ok. Iniziamo. Togliamo sul posto. Provi di dare, di toccare, di sedere col talone. Respiri. Ok. Allora ragazzi, adesso ti faccio vedere la prima parte, gli esercizi che ci sono. Ok? Iniziamo con jump squat. Ok. Poi, deadlift. Bicep curl. Allora. 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 Seconda parte. Push up. Terza parte. 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 Salto a parte. Sali con decisione e scendi lentamente. Quattro. Tendere fuori, schiena dritta, addome contratto, respiri, ginocchia morbida. Vai, forza. Ok, ragazzi ci serve tanta acqua, si deve bere tanta acqua che fa bene. Adesso iniziamo la seconda parte della terza, no, la seconda serie della seconda parte. Ok? Mettiamo il timer. Iniziamo. Dimenticare i glutei contratti. Quando sali, sali con decisione. La tappate. Giù, su. Giù, su. Respiri. Glutei sempre contratti. Ancora. Ok, push-up. Allora, se non puoi fare il push-up, no, male, così, con le punte, lo puoi rimanere anche sulle ginocchia. Così. Ok? O sulle punte, va bene? Bene. Manca poco. L'ultima. Oh my god. Ok. Stiamoci in posizione. Una gamba dietro, una gamba davanti. E manubri vicino al corpo. Salendo il movimento deciso. Respiri. Ok. 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 We are that lift. Fai. Siedere fuori. Addome contratto. Spiena dritta. Spiena dritta. Respiri. Ginocchia mobila. Ancora. Respiri. Allora ragazzi, l'ultima serie della seconda parte. Mettiamo il timer. ok stiamoci in posizione giù su con decisione giù su ancora addome contratto l'altra gamba su 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 giù su respiri dai si sente che si lavorano butteghe manca poco dai adesso push up ricordati o sul ginocchio o sulla punta dipende da te iniziamo respiri addome contratto gluteo contrasto guarda poco l'ultimo ok ok una gamba davanti una gamba dietro ok manovre vicino al corpo decisione movimento movimento deciso movimento deciso la tua parte la stessa cosa movimento deciso salendo scendendo più movida la gamba la gamba avanti una gamba dietro ragazzi l'ultima della seconda parte la gamba sedere fuori addome contratto apriamo respiri ginocchia movida vai ancora ancora la zona è contratto schiena dritta la postura è molto importante manca poco l'ultimo la terza parte allora per la terza parte ci serve un cuscino ok allora iniziamo metto il timer ragazzi è l'ultima parte dai voglio vederti carica che ce la fai allora mettiamo ok iniziamo let's go posizione come il plank poi prendi il cuscino lo porti sotto vicino al petto diciamo così respiri manca poco oh my god allora questo sempre usando il cuscino mettiamo il tappeto da terra allora ma se no mettiamo qua così puoi vedere meglio allora oh oh prendi con le mani poi i piedi non lo so se ho spiegato bene ma così respiri l'ultimo l'ultimo allora front raise lateral raise l'altra gamba front raise lateral raise front lateral raise ancora front aspetta siamo quasi questa è la seconda serie della terza parte che sarebbe l'ultima parte dai allora mettiamo il timer e iniziamo la stessa cosa prendi il cuscino dal piede e lo porti a mano ok respiri sono cresciuta che cosa respiri ancora respiri respiri ok ok, sliders, mettiamo, go, gambe sotto il petto, posizione del plank, respiri, 15 secondi, l'ultima, oh la la, ok, front raise, lateral raise, front lateral, front lateral, gamba sinistra, front lateral, petto alto, testa alta, cambiamo gamba, front lateral, front, front lateral, ancora, front, respiri, ok, non guardiamo, facciamo l'ultima serie, ok, adesso mettiamo il timer e veramente ci diamo a fondo, perché è l'ultima serie, ok, bene, iniziamo, let's go, let's go, let's go, siamo quasi, ok, sliders, andiamo, let's go, sotto il petto, l'ultimo, guardi a fondo, dai, che ce la fai, manca poco, 10, 10, 5, oh la la, the last one, vai, front lateral, front lateral, front lateral, ancora, front, respiri, testa alta, petto alto, cambia gamba, l'ultimo, ragazzi, my god, oh, dai, ecco ragazzi, siamo alla fine, spero che il video ti è piaciuto, sia così, metti like, condividerlo con la zia Pina, zio Giuseppe che adoro, che saluto, bisù, e niente, se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti, niente, se è un tipo di video che ti piace, che mi alleno con te, più spesso così, allora lo metti via commenti, o sennò mi manda un messaggio privato, dicendomi cosa pensi, niente ragazzi, arrivederci al prossimo, bisou bisou, ciao! 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 Grazie a tutti.